Telecamere di videosorveglianza sì, telecamere di videosorveglianza no. Per installarle sulle parti comuni o lungo il perimetro di un edificio bisogna rispettare la normativa sulle privacy e non solo. E in caso di condomini bisogna anche rispettare la maggioranza necessaria. Solo pochi giorni fa sono dovute intervenire a Caltanissetta le forze dell'ordine per fermare un signore che con un'arma d'aria compressa avrebbe sparato in direzione delle telecamere di una vicina di casa in via Sant'Anna. Ma quando è possibile utilizzare le telecamere di videosorveglianza? Per quanto riguarda invece i privati hanno innanzitutto una regola ben precisa cioè possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza ma tutela del proprio esclusivo interesse quindi del proprio patrimonio, della propria abitazione, del proprio uscio di casa e marginalmente questo può afferire anche ad ambiti pubblici. Quindi io che ho un'azienda, ho un immobile e ritengo che per tutelare la mia sicurezza e quello dei miei familiari, il mio patrimonio, quando contenuto nell'abitazione posso utilizzare questi sistemi nella misura in cui questi sistemi traguardano quella finalità quella della tutela del singolo soggetto, non della tutela altrui. Quindi le immagini non possono riprendere strade, cortili, aree dove non solo aree pubbliche ma anche aree ad uso pubblico dove l'accesso è indiscriminato se non marginalmente quando questo è necessario alla tutela del patrimonio. Esiste un altro obbligo in capo ai privati che è quello che qualora effettuano questa operazione devono dare all'esterno un'informativa minima ai soggetti e cioè che l'area è videosorvegliata, quali sono i soggetti responsabili di quell'impianto e dove poter eventualmente rinvenire quelle registrazioni. E se nel palazzo in cui si vive alcuni condomini volessero installare un sistema di videosorveglianza con telecamere per controllare meglio la proprietà e qualcuno si opponesse perché sente violata la propria privacy, le regole per la videosorveglianza in condominio richiedono rispetto della maggioranza prevista da legge. Un caso ulteriormente diverso è invece il condominio perché stiamo parlando di parti comuni di edificio in questo caso la videosorveglianza va ben analizzata da parte dell'assemblea dei condomini che devono deciderne sulle parti comuni se questo è uno strumento di tutela. In questi casi oltre all'informativo occorre un'assemblea che delibri in questo senso all'interno del condominio sempre, ripeto, con un'informativa che deve essere molto puntuale in favore dei soggetti potenziali che accedono a quell'area. Oltre a questi casi si incorre in sanzioni gravissime che vengono irrogate dall'autorità garante su segnalazione degli organi preposti al controllo. Anche la Polizia Municipale può effettuare questi controlli.